Buongiorno, sono Stefano Serra Capizzano, rettore vicario dell'Università dell'Insubria. Siamo qui nella splendida sede di Como. Quello di cui vado a parlare però mi qualifica non tanto come rettore vicario ma quanto come docente di matematica presso il Dipartimento di Scienze. Sono stato invitato a tenere una lezione di ambito matematico appunto in un corso tenuto dal professor Zamperetti di area umanistica e già questa può apparire a primo a chitto una stranezza ovvero sia parlare di matematica a degli studenti, a dei ragazzi, a delle persone del pubblico che fondamentalmente magari non sono interessate particolarmente a questo argomento. Uno dei punti qualificanti che si vuole trasmettere è che il sapere è uno e invece di farlo attraverso una lezione cattedratica che può risultare pesante si sceglie un esempio, quello di Google, uno strumento quindi usatissimo e curiosamente lì entra sia un aspetto umanistico e uno non se lo aspetta, sia un aspetto prettamente tecnico di natura matematica. Quello che alla fine qualifica l'algoritmo di Google, quello che ci consente di fare le ricerche su internet, non è tanto un funzionamento diciamo così estetico apparente quello che vediamo ma il frutto di una idea, un'idea particolare. Si matematizza e si rende calcolabile il concetto di importanza per cui in tutti i motori di ricerca precedenti le pagine web che venivano fuori erano una lista disordinata. Se non sono ordinate secondo un criterio di importanza, l'utente si stanca, smette di cercare perché non trova nelle prime 10 20 pagine quello che cerca. Se ce ne sono migliaia decine di migliaia lo strumento diventa inutile. Google è riuscito a superare tutti i suoi avversari e dal momento è un esempio di creatività scientifica che ha portato a un brand di mille e cento milioni di dollari, questo è una cifra difficilmente quantificabile, grazie al fatto di essere riuscita a matematizzare il concetto di importanza. E allora perché questo ha a che fare col versante umanistico? Perché alla fine il concetto di importanza è vicino, collaterale e può essere considerato addirittura affine al concetto di popolarità. Avere la possibilità di matematizzarlo è qualcosa che improvvisamente fa entrare la matematica nelle scienze sociali. Noi siamo stati abituati a vedere la matematica come strumento che ci consente di mandare i satelliti sulla Luna, che ci consente di capire i più raffinati e complessi meccanismi dell'universo, ma non siamo stati abituati a immaginare che la matematica possa essere uno strumento per estrarre, estrapolare delle idee che sono squisitamente attenenti all'ambito dell'uomo. E questo è il messaggio principale. Quindi parlerò di Google, parlerò delle sue sottigliezze matematiche, ma nel modo più qualitativo possibile, ma cercherò essenzialmente di far capire questo messaggio. Il sapere è unico e la cosa che consente di unificare il sapere è la fantasia, la fantasia, la capacità di immaginare. Un matematico quando crea il suo modello, quando arriva a descrivere una cosa che non era stata descritta prima, non fa un'operazione tecnica, non è, con rispetto parlando, vicino al ragioniere, ma è vicino al poeta, sta immaginando qualcosa che non c'è. E questo è l'altro messaggio. La scienza, la matematica, sono essenzialmente operazioni dell'intelletto umano di natura creativa. Il matematico è quello che estrae l'essenza e la rende una quantità misurabile e come tale una quantità che si può mettere a disposizione di uno strumento di calcolo, come i calcolatori, e rendere possibile un uso anche concreto della idea a fini che possono essere industriali, scientifici, commerciali, questo non importa. Poesia, fantasia, matematica sono concetti in qualche modo intercambiabili, stanno vicini ed è questo quello che vorrei trasmettere a chi verrà ad ascoltare questa lezione. Vi aspetto dunque il 29 novembre alle 17 presso la sede prestigiosa di Santa Bondio per parlare di questo tema. Spero che verrete numerosi e che proviate interesse per questo argomento. Grazie.